Ci sono mille componenti su questa partita, perché in primo luogo noi dobbiamo salvarci, dunque è una partita essenziale per tutte e due le squadre, non solo per la mia ma anche per loro. Perciò sarà una partita molto difficile da preparare, penso che la partita si prepari da sola, l'importanza della posta in palio, il derby, la salvezza in palio, ci sono tantissime cose che dovremmo essere con la testa lì sul pezzo, perché non si può mollare niente, dobbiamo essere determinati, sappiamo che è una partita difficile per tutte e due le squadre, noi dobbiamo giocarcela come abbiamo sempre fatto, con il nostro modo di interpretare le partite, cercando di essere aggressivi, di avere la pazienza, di essere sempre quadrati in campo e di essere concentrati sul lavoro che dobbiamo fare e basta. Noi non possiamo dirci e considerarci salvi perché non lo siamo, sappiamo che giochiamo davanti a tanta gente, ai nostri tifosi e vogliamo regalargli una grande soddisfazione, questo sì. Beh, è la squadra molto tignosa, caratteriale come suo allenatore, perciò ti offrirà pochi spazi, dobbiamo essere abili a non aver fretta per andare a chiudere le azioni, avere la pazienza giusta per trovare l'imbucata giusta. L'ho sempre detto, io ho sempre detto che rimanerei volentieri qua, l'ho detto e lo riconfermo, però non ho la testa da pensare ai contratti, non me ne frega, niente non me ne frega, perché a me interessa domani. Non abbiamo parlato di... No, io quello che sento, sento molto la vicinanza della società, questo sì, lo sento moltissimo, nel senso che sono molto vicini a me, ai ragazzi, a tutto l'ambiente, perciò questo lo sento, sento la fiducia da parte loro, ma prima bisogna tagliare il traguardo e poi vediamo, insomma si parlerà, credo. Ecco, ma lei sente vicino alla società, non ha fatto in specie il presidente, non soltanto il direttore? No, no, il presidente, il presidente, il direttore, da tutta la componente. Una credenza, una fiducia che è aumentata nel tempo o che c'è stata dall'inizio a quando lei arriva? Ma penso che sia stata aumentata nel corso del tariolo che sono qui. Grazie a tutti.